Parte sabato 12 settembre e durerà per una settimana fino al 19. Dona la spesa a speciale scuola nei punti vendita Nova Coppe, raccolta di materiali didattici e articoli di cancelleria per sostenere le famiglie in difficoltà. Il ricavato della campagna verrà consegnato alle diverse onus e realtà locali del terzo settore con cui Nova Coppe collabora da anni, che provvederanno a distribuirle. Nel 2019 la campagna ha consentito di raccogliere prodotti per un valore di oltre 100.000 euro, equivalente a circa 40.000 pezzi. A livello locale i punti vendita che aderiscono all'iniziativa sono quelli di Crevola Dossola, Domodossola, Via Cassino, Gravellona, Verbagna Intra, Omegna, Villa Dossola e Arona. Sarà quindi possibile acquistare e consegnare ai soci coppe, volontari e ai volontari delle onus presenti presso i punti vendita prodotti di cancellerie e materiali come risme di carta, colla stick, forbici, penne, pennarelli, evidenziatori, matite colorate, gomme, correttori, tempera, matite, cartelline trasparenti, porta penne e astucci. Dall'amministrazione di Verbagna fanno sapere che il materiale raccolto presso la Coppe di Intra sarà devoluto al market sociale dell'Emporio dei Legami. Dall'assessore alle politiche sociali Franzetti un ringraziamento per l'iniziativa e l'invito ai cittadini a partecipare per sostenere il market sociale del territorio che, nella sua sede in Via Roma, aiuta quotidianamente le persone e le famiglie in difficoltà.